Era domenica 8 novembre, un agente della polizia di stato mentre era al lavoro, nota in caserma tre bambine di colore, molto educate, che lo salutano cordialmente. Le piccole stavano attendendo fuori dall'ufficio trattazione atti loro genitori. Erano andati in ufficio in quanto gli era stato contestato un verbale delle volanti per mancanza di assicurazione sull'auto. L'uomo aveva chiesto un po' di giorni di tempo per racimolare la cifra, importante, 868 euro come cauzione, per spenderne poi 400 di demolizione e più di 300 per il verbale. Il poliziotto ha visto un uomo in difficoltà, una famiglia intera, unita, tre bambine dolci, parlare un italiano perfetto ed avere un rispetto ed educazione assoluta nei suoi confronti. Ed ha pensato al pane che quel padre avrebbe dovuto togliere di bocca alla sua famiglia per pagare in un momento di grave difficoltà per tutti. Così la gente ha parlato con l'ufficio trattazione atti e ha deciso di pagare lui il dovuto. Scrivo questo non per mania di protagonismo, né perché ho soldi da buttare, ha detto, ma per stare bene con me stesso. L'uomo comunica anche agli altri poliziotti del suo turno le sue intenzioni e diversi di loro hanno deciso di dare una mano per pagare il verbale. Ma la storia non finisce qui. Racimolati i soldi è stato difficile poi ritrovare quel padre di famiglia. Per rintracciarlo la gente è dovuta andare a casa sua. La moglie gli confiderà che suo marito non aveva voluto richiamare l'ufficio perché si vergognava di non avere i soldi con sé e di non essere riuscito a racimolare alcuna cifra per la cauzione che avrebbe dovuto dare come garanzia all'ufficio perché alla fine percepisce 950 euro di stipendio, ne paga 400 difetti e poi c'è da far mangiare le sue figlie. Alla fine comunque tutto è stato messo a posto. L'ho riaccompagnato a casa, ha scritto il poliziotto, e la moglie mi ha ringraziato in lacrime. Il marito mi ha salutato dicendomi non ti dimenticherò mai. Se le emozioni provate oggi si potessero provare tutti i giorni, dice pagherei sempre queste cifre a chi ne ha bisogno a secondo delle mie possibilità economiche.